Ma che devo fare? Metti il bastoncino, poi arriccia, 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 tira il filo e hai finito. Mario! Mario, l'Adrinam paga 2.500 euro a persona. Se fai due conti, noi siamo in due, sono 5.000 euro. Tradire il mio paese per soldi? Mai! Oh, ma noi abbiamo bisogno di un tetto nuovo! Tra un po' ci comincerà a piovere dentro casa. Dove vai, Mario? A prendermi il pigiama, mi trasferisco da mia madre. Ma sei diventato matto! Mario, vada qui! Dove vai, Mario? Mario?